E anche oggi è tempo d'estate, un'estate che stiamo trascorrendo insieme tutti i giorni in diretta su Padre Pio TV dalle 10.45 alle 11.25, circa in questi giorni, sia ieri che oggi, abbiamo cominciato un po' più tardi rispetto all'orario consueto della nostra scaletta in quanto avete potuto partecipare al Santo Rosario per il triduo missionario che appunto è stato recitato dalla chiesa inferiore di San Pio. Bene, e allora facciamo una piccola anteprima perché vi voglio mostrare dove andremo tra pochi minuti, andremo a Monteleone di Puglia, il paese che ha dato i Natali al nostro caro padre Marciano Morra. Ci collegheremo con il parroco della chiesa di San Giovanni Battista dove questo pomeriggio alle 18 sarà celebrata la Santa Messa che andrà in diretta su Padre Pio TV e poi con l'amata nipote di padre Marciano, Marisa. Lo dicevamo prima quando abbiamo fatto un collegamento di prova, chissà quante risate si starà facendo padre Marciano che dirà avete fatto bene, la state mettendo in difficoltà, lei magari non è molto avezza come naturalmente lo era lui alle telecamere e quindi starà sorridendo di questo scherzetto che lui ha fatto alla nipote. Allora Marisa tra poco ci collegheremo con te, con Don Mimmo. Abbiamo una scaletta da rispettare, brevissima pausa pubblicitaria e poi rimanete con noi perché oggi a tempo d'estate ci collegheremo con Monteleone di Puglia che oggi ricorda padre Marciano Morra. E alle 11.05 di questo venerdì 13 agosto, la settimana di Ferragosto, dunque tanti piccoli paesi si riempiono dei suoi concittadini e noi andiamo a Monteleone di Puglia che oggi ricorda uno dei suoi figli ecco più importanti e tanto amati. Stiamo parlando di padre Marciano Morra, siamo collegati con la nipote Marisa Sanzano in collegamento appunto con noi da Monteleone di Puglia. Ti ha fatto un bello scherzetto tuo zio, Marisa. Sì, infatti un bello scherzetto veramente. Buongiorno, benvenuta. Starà ridendo, starà ridendo. Buongiorno, buongiorno. Allora, Monteleone oggi ricorda padre Marciano in questa settimana appunto di Ferragosto perché in questa settimana padre Marciano amava tornare al paese così come a te piaceva coccolarlo e soprattutto farlo riposare un po'. Sì, è vero. Lui soggiornava qui circa dieci giorni in assoluta quiete cercava, portava sempre il suo lavoro, faceva tutte le cose sue la sera venivamo in chiesa, celebrava la Santa Messa poi si passeggiava per il paese dove tutti i compaesani a cui lui ci teneva tanto lo avvicinavano, lo coccolavamo tutti insomma ed era felice, se ne andava poi sereno, molto sereno. E poi tornava a San Giovanni Rotondo e si preparava per le fatiche della novena a San Pio e poi appunto per gli incontri con i gruppi, le persone appunto che lo cercavano, i libri che lui stesso scriveva, gli articoli. Quindi davvero un infaticabile padre Marciano. Il tuo ricordo più bello, Marisa? Sì. Ma il mio ricordo più bello ce ne sono tanti, però quello a cui sono particolarmente legata sono le sue parole, quando in alcuni momenti io praticamente mi sfogavo, confidavo, raccontavo e lui mi diceva sempre tre cose ricordati che il rapporto con gli altri lo devi tenere in maniera semplice devi capire, comprendere ed aiutare e questa è stata la forza che ho anche con il lavoro che faccio insomma di avere con le persone. Un ricordo forte, poi i ricordi allegri ci sono tanti lui scherzava, gioiva, cioè però questo era il suo insegnamento insomma le tre parole che mi porto dietro. Puoi ripeterci le tre parole? Così ce le segniamo e le portiamo anche, le mettiamo anche nel nostro cassetto. Era comprendere, capire ed aiutare gli altri Ed è quello che padre Marciano faceva anche La famiglia, il rapposto Sì, sì sì Anche appunto la sua presenza all'interno di Padre Pio TV Sentimi, vogliamo condividere quello che dicevamo prima a Telecamere Spente riguardo il fatto che tu una volta ti stavi specchiando lui è passato e che cosa ti ha detto? Sì Allora io mi stavo specchiando perché dovevo accompagnarlo in chiesa quindi mi stavo specchiando e io ho detto specchio specchio delle mie brame chi è la più bella del reame? Per giocare, lui si è affacciato e ha detto io È così, è vero, padre Marciano Quindi È stata una cosa simpatica perché io non l'avevo visto io scherzando dico specchio specchio delle mie brame e lui subito io quindi si giocava anche si giocava Era scherzoso, padre Marciano ironico davvero, davvero ci manca ci manca tanto Marisa e noi ti ringraziamo per averci dedicato il tuo tempo ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 18 per chi potrà venire a Monteleone di Puglia in presenza sempre rispettando le norme anti-covid la messa sarà nella chiesa di San Giovanni Battista e per gli altri che appunto potranno anche seguirla attraverso le frequenze di Padre Pio TV ti ringrazio cediamo il microfono a Don Mimmo Vida grazie a voi che è parroco grazie grazie a te Marisa che è parroco appunto della chiesa dove si celebrerà la Santa Messa oggi dedicata a padre Marciano Morra così come oggi Monteleone di Puglia si stringe intorno al suo concittadino più illustre oserei dire appunto che è il confratello di Padre Pio tanti sono anche i gruppi mi diceva prima Marisa che si stanno anche organizzando nelle vicinanze per essere presenti a Monteleone ecco lo vedo collegato Don Mimmo Guida sempre da Monteleone di Puglia buongiorno Don Mimmo e benvenuto facciamo ancora qualche sistemazione qualche aggiustamento tecnico anche a Don Mimmo chiederemo se ha un ricordo particolare ecco legato a padre Marciano Morra appena è pronto torniamo appunto a collegarci chiedo alla regia abbiamo avuto qualche problema ok possiamo andare avanti se non abbiamo ancora se non abbiamo il collegamento con Monteleone di Puglia andiamo avanti con il santo del giorno oggi la chiesa ricorda il beato Marco Aviano sacerdote cappuccino che sapiente predicatore della parola di Dio in ogni luogo si adoperò mirabilmente per i poveri e i malati sollecitando soprattutto i potenti del mondo ad anteporre la fede e la pace ad ogni altra impresa o interesse quindi facciamo questo è il santo il beato che la chiesa ricorda oggi vediamo se la regia ok siamo pronti a ricollegarci con Monteleone di Puglia c'è Don Mimmo guida parroco della chiesa di San Giovanni Battista dove appunto oggi alle 18 si terrà la Santa Messa buongiorno Don Mimmo benvenuto buongiorno a voi e grazie grazie per questa circostanza e grazie per il vostro servizio allora anche a lei chiedo qual è il ricordo più bello che ha del nostro caro padre Marciano Morra padre Marciano in questi anni che l'ho conosciuto è stata una persona veramente sorridente gioiosa e felice di stare qui a Monteleone il suo paese natale un paese appunto che ha dove qui è nato sì 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 prego prego continui Don Mimmo qui è stato battezzato la chiesa matrice e qui ha avvertito i germi i semi della sua vocazione la sua vocazione sacerdotale e poi Cappuccina bene qui ha conosciuto il Signore purtroppo c'è qualche secondo di ritardo Don Mimmo quindi vorrei appunto ringraziarla per averci accolto ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 18 per la Santa Messa per ricordare Monteleone che ricorda il suo concittadino il suo figlio che è padre Marciano Morra appunto che a Monteleone è nato figlio illustre figlio illustre certo ci piace anche utilizzare questo aggettivo grazie grazie Don Mimmo un saluto a tutta la comunità grazie a voi grazie grazie arrivederci grazie grazie e ricordiamo l'appuntamento alle 18 con la Santa Messa che non sarà in diretta da San Giovanni Rotondo ma da Monteleone di Puglia per ricordare padre Marciano Morra e allora andiamo indietro nel tempo facciamo vediamo che cosa è successo nel corso degli anni oggi era il 1961 quando a Berlino in Germania il governo della Germania Est fa rigere il muro di Berlino guardiamo una immagine ecco e poi nel 2001 la moneta unica europea ritorna sopra la soglia dei 90 centesimi di dollaro anche questo è un accadde oggi che riguarda sia la storia ma anche l'economia e poi nel 2004 i giochi della 28esima Olimpiade si aprono ufficialmente ad Atene bene detto questo vi vogliamo dare anche un consiglio di lettura un libro dedicato a Terenzil firmato da Samuele Pinna il suo nome è Terenzil una vita da film edito da Ancora Edizioni Terenzil ecco questa è la copertina famosa in tutto il mondo ha interpretato diversi ruoli nella sua carriera l'ultimo quello che ha lasciato il segno a parte i film con Bud Spencer l'ultimo Don Matteo e poi questo libro come se fosse un lungometraggio ripercorre tutta la sua vita davvero da film mediante le vicende accadute ai protagonisti delle sue pellicole che hanno lasciato piccoli e grandi insegnamenti nella leggerezza di trame per tutti quindi un libro dedicato agli amanti di questo attore appunto che ha lasciato continua a lasciare il segno nel cinema anche nelle fiction italiane Terenzil e allora apriamo come accade ogni giorno l'album l'archivio di Padre Pio TV anche il caso di dire l'album dei ricordi continuiamo con le testimonianze di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Padre Pio e allora oggi vogliamo ascoltare un altro stralcio della lunga intervista che è stata realizzata dal nostro direttore a Giovanni Gigliozzi collaboratore per tanti anni di Casa Sollevo della Sofferenza Benveno Gigliozzi mi ricordo che lo trovai piangente aveva una gravata e sulla gravata aveva detto Benveno Gigliozzi io dico scherzando che ha paura di perdersi non lo riconoscano e sì e piangeva perché Padre Pio l'aveva cacciato da confessionale e voleva vado a lei mi accompagni lei ma no ci torni ci torni tornò era gongolante e mi raccontò che Padre Pio gli aveva detto cambia la camicia e lui che prendeva la camicia la raggno di bugato ogni mattina dice no 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 insomma è rimiso a posto una situazione familiare piuttosto confusa e allora Padre Pio lo abbracciò e all'altra ora in poi c'era il rito quando c'era Gigliozzi venimi cantami mamma e Padre Pio si commuoveva sentendolo e sì e poi la cosa divertente è che Gigliozzi dopo essere riappacificato con il Signore e con Padre Pio voleva raccontare questo fatto a tutti quanti e io dovevo trattenerlo e poi mi dice come se io fossi stato l'interprete perché ci fu un amico John McEffery che era stato il coordinatore della resistenza durante gli anni bui della guerra il quale si è messo in mente che io fossi il San Giovanni evangelista di Padre Pio e lo diceva a tutti quanti guardate però che comparve anche in un giornale inglese diretto da un certo mister Woodroff però io naturalmente cercavo di valorare questa fama perché per Padre Pio eravamo tutti uguali ci voleva veramente bene a tutti e poi non era non mi piaceva e invece Gigi l'aveva di parola ogni volta voleva che io facessi quello che non potevo non sapevo e non volevo fare testimonianza di Giovanni Gigliozzi che non solo ha collaborato con Padre Pio lo ha conosciuto quindi ha avuto davvero questo privilegio questa grazia ma è stato anche direttore della rivista Casa Sollievo della Sofferenza riascoltiamo rivediamo queste immagini ascoltiamo le parole di questi importanti personaggi davvero con grande piacere sono edificanti e ci aiutano anche a capire meglio la figura del Santo di Pietrelcina sono quasi le 11.19 tra poco faremo una pausa un po' più lunga per poi collegarci con la Chiesa di San Pio per partecipare insieme alla Santa Messa vorrei ricordarvi che abbiamo un indirizzo di posta elettronica che è info chiocciola teleradiopadrepio.it che potete utilizzare per inviarci le foto di gruppo del vostro pellegrinaggio ma magari non sono di gruppo sono di famiglia sono foto di voi singoli pellegrini insomma se volete condividerle con noi inviatele al nostro indirizzo di posta elettronica eccolo questo è il numero di telefono c'è anche l'indirizzo di posta elettronica info chiozzola teleradiopadrepio.it oppure per chiamarci 0882 4183 80 a questo proposito abbiamo giusto 30 secondi per farvi vedere una foto tratta dall'archivio fotografico voce di Padre Pio di un gruppo che è venuto in pellegrinaggio nel 1985 pensato un po' da Trapani quindi molti gruppi dalla Sicilia il gruppo di Trapani nel 1985 vediamo questa bella foto che sembra davvero antica anche se sono passati relativamente pochi anni dal 1985 sembra ieri però un bel gruppo foto scattata davanti l'ingresso della via Crucis monumentale di Messina San Giovanni Rotondo se venite in pellegrinaggio non potete perdervi questo bellissimo monumento e soprattutto luogo di preghiera e di spiritualità bene e allora è arrivato il momento di fermarci una pausa un po' più lunga questa volta che ci accompagnerà poi a tornare insieme per prepararci alla Santa Messa delle 11.30 e allora è arrivato